Alcuni giorni fa è stata rivelata al pubblico la seconda guida strategica di Pokémon Ultra Sole e Ultra Luna dedicata a quanto pare al Pokédex nazionale Sulla suddetta guida strategica possiamo infatti leggere il Pokédex nazionale ufficiale edizione Pokémon Ultra Sole e Ultra Luna il che ci porterebbe a pensare ad un ritorno dell'appunto Pokédex nazionale che ci aveva abbandonati proprio un anno fa con Pokémon Sole e Luna Ovviamente non diamo nulla per certo senza la conferma di The Pokémon Company che speriamo si esprima in merito In questo modo si colmerebbe una grave mancanza di giochi Pokémon Sole e Luna come detto poco fa Acquisterete la guida strategica ufficiale di Pokémon Ultra Sole ed Ultra Luna? Inoltre vi ricordo che la data d'uscita di questi due giochi si fa sempre più vicina Difatti da oggi mancano solamente due mesi e mezzo Se le notizie state di un rendimento lascia un mi piace, condividi il video con i tuoi amici ed iscriviti se ancora non l'hai fatto Noi ci vediamo questa sera con uno shiny hunting in live alle ore 19.30 su Twitch Link in descrizione Qui ti dico è tutto, ciao allenatori! Quacka будут ce tea! Quali app' vieції la guida alle ore 19.00 su 22.00 su 23.00 su 23.00 su 23.00 su 23.00sh Zerah Allerì, vi ensure Resistance ce 3 o 2!-TS Cheuedo? Allerì, vi starting! Ha buon! A